Salve a tutti cari amici, Svartoris 84, quarta prova speciale del rally di Nuova Zelanda dobbiamo fare bene per cercare di continuare a lottare per la vittoria condizioni prebitire anche per la nostra 4x4 evoluzione 5x3 4x4 lunga, apre 4x4 sinistra lunga, apre 5x3, 30x3, apre, tornante sinistra tornante aperto, destra dai 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 riprendi apre 30 4x4 eh dai cazzo 5x4 sinistra lunga, sublinale, rallenta, 2x4, stringe tirate il freno a mano, porca troia in 1 sinistra 2x4 2x4, stringe 30 tutto a freno a mano stiamo andando, però certa volta sembra come se non funzionasse 4x4 attenzione 30 due destra lunga, stringe quattro sinistra, su crinale, lunga, stringe stiamo a cadere nel burrone 3x4, destra lunga, su crinale quattro sinistra tieni la destra su crinale tieni la destra su crinale 30 nel cancello, 6 sinistra su crinale lunga in 2 destra lunga apre ah sapevo io e vai abbiamo rotto i fare aggiuntivi 3 destra lunga però non dovremmo aver perso troppo tempo quindi non si molla 30 4 sinistra 3 destra lunga, stringe siamo ancora in gioco amici in 2 sinistra in 6 destra apre 50 3 destra lunga, stringe in 3 sinistra in 3 destra lunga, stringe in 6 sinistra su crinale 30 2 destra, stringe tornante aperto, sinistra apre minchia vaglio 6 sinistra 4 destra, stringe in 5 sinistra e 2 destra, stringe 1 in 4 sinistra in 3 destra lunga apre su crinale attraverso il cancello in 3 lunga, stringe in 4 sinistra in 4 destra in 4 destra in 5 sinistra su crinale, extra lunga in 5 destra e va, siamo tornati primi nonostante l'incidente è per sta coda 30 attenzione in 5 sinistra, in 2 destra lunga stringe 1, stringe in 6 sinistra su crinale in 6 destra in 2 sinistra in 5 sinistra in 2 destra lunga apre 30 in 3 destra lunga in 5 sinistra in 3 destra lunga stringe su crinale in 1 sinistra in 1 destra in 1 destra in 5 sinistra in 5 sinistra E vai 4 secondi di vantaggio Vediamo un po' che abbiamo fatto Appena fatto il tempo migliore della tappa Eh lo so ma il problema se qual è Basterà per vincere Porca troia Un secondo davanti a Nielsen con la delta integrale Porca vacca Minchia amici Ottimo ovviamente il risultato E che dire Adesso l'ultima prova speciale Di 4 km molto veloce Buon dislivello Cerchiamo di Portare a compimento questa vittoria Per noi sarebbe fondamentale Ci abbiamo provato in tutti i modi E speriamo che possa andare bene La nostra vettura è un po' provata Da Le varie situazioni Facciamo riparazioni Confermate E vediamo anche pneumatici Cosa è successo Eh quindi Cambiamo anche le gomme E partiamo per l'ultima prova speciale Inizia crinale In 1 sinistra In attenzione 2 destra Stringe 1 In 4 km si deciderà gli amici 5 4 3 2 1 Via Crinale In 1 sinistra Attenzione 2 destra Stringe 1 In 5 sinistra Apre su crinale In non tagliare 2 destra Stringe 2 sinistra In 3 destra 30 6 destra In 5 sinistra In 2 destra Stringe In 1 sinistra Apre 3 destra Stringe In 3 sinistra In 1 destra Stringe In 2 sinistra No Non si vede un cazzo In 5 destra In 4 sinistra 4 destra Lunga Apre 30 4 destra 4 destra Su crinale In 1 sinistra 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 In non tagliare quattro destra In quattro sinistra lunga stringe Non ti ribaltare E vai Due destra lunga Apre Sei sinistra lunga Apre sul doppio crinale nel cancello In tre destra stringe In sei sinistra e due destra stringe Siamo passati avanti Nonostante piccoli errori sbavatori In sei sinistra lunga Apre Stringe tre sinistra No, non male Boccata ma Niente di grave Quattro destra lunga Apre Due destra lunga Stringe sul crinale In due sinistra stringe Due destra stringe In tre sinistra Trenta Quattro destra lunga Stringe tre Apre sul crinale In cinque sinistra In uno destra stringe Non tagliare Non tagliare Tornante aperto sinistra Apre 30 Aia Due sinistra stringe Brutta imbarcata della vettura Che si sta per ribattare Tre destra lunga Tre sinistra lunga Siamo primi Non dobbiamo mollare Due destra extralunga Apre su crinale In uno sinistra stringe Attenzione Tornante aperto destra Due sinistra Buona buona Veramente questa delta È un sogno oggi Sto spingendo da pazzi È un'ottima tenuta Un'ottima tenuta Un momento incredibile È un sogno questa vettura Oggi Tornante aperto sinistra Apre sul crinale Bellissimo Anche la grafica Mi piace molto Attenzione 20 Due destra Stringe Tre sinistra Tre destra Trenta Due destra lunga Apre Trenta Tre sinistra lunga Stringe Tornante aperto sinistra Su arrivo Eh vai Forse abbiamo vinto amici Il primo dei quattro rally Che compongono Questa Terza stagione Non ci credo Siamo i campioni Eh vai cavolo Grandissima prova Della nostra lancia Delta integrale Cinque secondi E abbiamo vinto il rally Per Eh Sei otto secondi Su Nielsen Quindi Gara tiratissima Sono veramente felicissimo E Speriamo che Quest'anno Ci possiamo levare Delle belle soddisfazioni Con la nostra Lancia Delta integrale Evoluzione Perché poi Passeremo al campionato Superiore Penso già Arriveremo alle R5 Quindi Cari amici Che dire E Sono molto contento Perché La vettura Si sta dimostrando Veramente ottima Ci siamo E' stato Veramente divertente Fare questa prova speciale Perché Quando la macchina Spinge bene Ci si diverte Se hai il controllo totale Della vettura Non come succedeva Con le gruppo B E la Delta Non è sicuramente Una macchina Che va piano È comunque Una vettura Vediamo qua La toccata È sicuramente Una vettura Che i fatti sui Se li fa Quindi È veramente eccezionale Allora Vi do appuntamento Al prossimo Rally Dovrebbe essere Quello d'Argentina Che non abbiamo mai corso Finora Quindi vediamo Un po' Come sarà E Speriamo Che riusciamo A vincere Anche questo A vincere Questo campionato Saluti Che riusciamo